Sistemi protesici di Anca e doppia mobilità, di cosa state discutendo qui oggi a Pescara? Un giorno importante per quello che riguarda la protesica dell'Anca, in quanto spetiamo personaggi illustri nel panorama ortopedico, tra cui il professor Farison della Scuola di Sant'Etienne, per parlare appunto di un concetto nuovo di protesi d'Anca che si chiama doppia mobilità, un concetto che ormai da qualche anno abbiamo sposato, quasi in maniera univoca, che ci sta dando grandi risultati sia in termini clinici che di soddisfazione del paziente. Dottor, ovviamente non si fa riferimento solo a persone anziane, ma ci sono delle patologie che poi colpiscono anche i più giovani. Infatti uno dei temi importanti di questo nuovo concetto è proprio quello di ottenere una protesi che anche in pazienti giovani con richieste funzionali molto alte possa soddisfare appunto il ritorno allo sport, il ritorno alla vita quotidiana. Quindi non solo una protesi adatta per i pazienti anziani, ma anche per coloro i quali hanno bisogno di ritornare a una vita completa come quella che era prima, di avere o una frattura o un'artrosi primaria. Se vogliamo parlare di percentuali, quando è la ripresa dell'attività in piena funzione? Certo, con questo tipo di protesi abbiamo la fortuna di mettere il paziente il giorno dopo l'intervento subito in piedi, inizia subito la fisioterapia e dopo 40 giorni può ritornare a una normale vita e alla ripresa dello sport dopo tre mesi. Ecco l'Abruzzo ancora al centro della sanità mondiale. L'Abruzzo è secondo me una regione dove tutte le ortopedie fanno un lavoro molto eccellente. Sarebbe sempre più auspicabile che le ortopedie si mettessero in rete per avere un maggiore scambio culturale come quello che accade oggi e per avere una crescita professionale da parte di tutti i professionisti della sanità. Grazie. Grazie.